Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Outer Worlds, gioco sviluppato da Bioware, distribuito dai Private Division, che ringrazio e ringrazio anche l'Agenzia di Pubbliche Relazioni che mi ha concesso di ottenere questo gioco. Il gioco è disponibile anche con Game Pass su Xbox, avevo anche quello comunque, l'ho già abbastanza preparato. Gioco che sicuramente avete già visto e rivisto da tanti youtuber, perché lo stanno portando praticamente tutti. Io sono arrivato a un punto poco dopo l'inizio in cui si entra in possesso della nave e soprattutto la novità che porto io è la modalità supernova, cioè io sto giocando a una difficoltà davvero molto particolare, perché vedete qua c'è supernova e cosa succede? I nemici hanno meno salute e infliggono meno danni. No, questo è cannato totalmente. Scusatemi, questa è la storia, sto leggendo sbagliato io. Io sto giocando l'ultimo in fondo qua. Infatti pensavo fossero tutti i vari punti, no. Allora, la difficoltà più estrema, modalità simulativa, selezionare la modalità supernova soltanto all'inizio partita, se riduce la difficoltà praticamente questa non è più selezionabile. Che cosa introduce? Lo vedete in alto a sinistra la fame, la sete e il sonno, oltre che i personaggi secondari, quindi quelli che ci portiamo dietro, possono morire. Infatti uno è già morto, ma non era un personaggio di quelli dei miei compagni, insomma. Allora, dovevamo incontrare un contrabbandiere che ci avrebbe portato un po' a modello Han Solo dove dovevamo andare, ma questo praticamente ha messo il segnale dove dovevamo atterrare noi e non si è spostato, quindi è morto. L'intelligenza artificiale ha fatto buon viso a cattivo gioco e ci ha fatto intendere che se avessimo detto che eravamo lui, lei ci avrebbe riconosciuto come capitano e così abbiamo fatto. Il problema di questa nave è che non ha i motori pronti, quindi bisogna andare a recuperare. La nave consente di, vedete qua, ci sono i banchi da lavoro, quindi è possibile, adesso scusate ma colgo un po' di kit, anche un po' di armi. Il banco da lavoro, vedete, consente di riparare e potenziali modificare. Ma adesso, vedete, vi faccio vedere subito che cos'è il gioco. Qua si può dormire. Ho già un po' di cose da mangiare. Saliamo la scala. Vi faccio vedere adesso la prima salita di livello, con l'AM c'è la mappa. Le aree, per chi se lo stessi chiedendo, sono macro aree, non è un open world. Probabilmente dicevano che non lo sarà neanche il gioco successivo a questo, quindi un possibile The Outer Worlds 2. Col tasto Q ci curiamo, in alto a sinistra vedete che c'è quel tasto, vedete, F, no, scusate, con la F ci curiamo, abbiamo 7 medikit, e col tasto Q invece si avvia una sorta di ball time, insomma un po' come Fallout. Il gioco prende ispirazione comunque da Fallout, si vede, però è forse un misto tra, lo chiamerei un Borderlands e un Fallout. Perché giocare Fallout per il post-apocalittico, il sistema di combattimento? Perché giocare Borderlands per sparare come dei pazzi? Perché giocare The Outer Worlds? Perché se ci piace Borderlands come sistema di shooting, ma lamentiamo il fatto che non abbia il gioco di ruolo, questa è la soluzione giusta. Si parlano di tante cose che non vanno in questo gioco, ne ha parlato tutti molto bene, ovviamente hanno messo le mani avanti su alcune cose, tipo si può rubare nelle case, ma ci sta, insomma, dove non lo si fa. Non dobbiamo focalizzarci. Allora, Ernest vuole che lo aggiorniamo. Allora, vediamo. Le guardie e la gente del posto hanno detto scambio di opinioni. Menzogna. No, gli dico questo. Poi saliamo di livello. Non c'è più dignità, le politiche delle soluzioni spaziali proviscono categoricamente la morte durante l'orario lavorativo. Si, fa bene. C'è sempre del sarcasmo, delle battute divertenti. Non posso lasciare proprietà. Questi sono proprio aziendalisti. Mi farebbe comodo i loro occupaggiamenti. Impossibile, questa matura è proprietaria delle soluzioni spaziali. Anche i corpi, vivi o meno vivi, politica aziendale. Tu mi capisci. Faresti bene a deambulare fino a lungacqua se posso crederci e sollecitarti. Il commissariato potrebbe avere del lavoro per qualcuno con la tua armonicazione e propensione all'aggressività. Un momento, voglio chiederti una cosa. Non sono pagato per discorrere con degli sconomi. Ma come parla questo? Tradotto bene? Parla con Silas al cimitero. Va bene, me ne vado. Allora, la cosa che mi ha un po' spiazzato è che questa difficoltà, io ho iniziato baldanzoso, sono andato, ho combattuto, ho battuto i primi due perdoni e sono morto subito. Con quelli dopo. E sono ripartito dall'inizio, dal tutorial. Quindi il salvataggio non si può fare, si può salvare solo dormendo. E dormire, non si può dormire in città, ma si può dormire solo sulla nave. Ci sono degli autosave ogni tanto, però è veramente tosto. E lo andremo a sperimentare insieme e tireremo le conclusioni. Intanto vi faccio vedere il riepilogo con le mie abilità. Questo sono io, mi sono fatto io. All'inizio possiamo scegliere, spendendo dei punti, in che cosa potenziarci. Forza, destrezza mente, ci sono vari gradi. Ho messo meno uno per guadagnare un punto sulla forza, quindi sotto la media, però siamo ampiamente sopra la media per quanto riguarda la destrezza, intelligenza, percezione, fascino e temperamento. Ogni una di queste e di questi attributi consente poi di determinare il punteggio di alcune abilità. Le abilità sono qua, le possiamo potenziare. Da quello che ho capito, praticamente io adesso posso spendere dieci punti e potenzio però tutta una zona, tutta un'abilità. Quando queste abilità arrivano a 50, posso andare a potenziare i punti delle singole abilità e non di tutte. Sto potenziando queste al momento, invisibilità e comunicazione per persuadere. Posso andare a potenziare le armi a distanza? Vedete sotto tutti i vantaggi? Ad esempio se potenzio lo scassinamento, a 20 che ho già, sblocco gratuitamente porte e contenitori, a 40 più 25% dei bit nei contenitori, a 60 scopri cosa c'è nei contenitori chiusi, a 80 la velocità di scassinamento aumenta fino a diventare quasi immediata, a 100 la possibilità di trovare oggetti non danneggiati perché qua li possiamo anche andare a riparare, cosa che non c'era su Fallout 4 tra l'altro. L'intimidazione, vedete, ha l'effetto di terrore, insomma io adesso vado sulle pistole, dovrei andare a 26 e sbloccare effetti, vabbè facciamolo dai, così potenziamo anche un po' le armi, vedete che adesso saliranno tutte di 10 no, ah sì ok, uno di tutti, sì se li spendo tutti in effetti mi sale di 10 allora facciamo una cosa intermedia, facciamo 6 e gli altri li metto magari qua in persuasione così almeno abbiamo potenziato tutto, ok, no bella sta cosa, non avevo ancora provato ah tra l'altro voglio continuare a farvi vedere, abbiamo i vantaggi no 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 no, ok, e applica, perfetto, non l'abbiamo confermato hai sbloccato l'abilità di comunicazione e combattimento, se attacchi un tipo di bersaglio corretto lo indebolirai automaticamente, va bene vantaggi, praticamente la sezione dei vantaggi, praticamente ogni due livelli ne selezioniamo uno, ne ho già scelto uno all'inizio, si possono tenere anche durante il gioco accettando un difetto, quindi quando così ci 5 nuovi vantaggi avrai a disposizione una nuova classe di vantaggi, vabbè allora vediamo un po', robustezza, rallenta il mondo, ho un punto solo, quindi possiamo aumentare 25% di dilatazione, lupo solitario, 25% di danno in più quando sono da solo mi piace si dai lo faccio, lo prendo, ho preso un punto, confermo, molto bello anche questo a chi piace comunque qua le reputazioni, con le varie fazioni in gioco, poi ci sono anche le secondarie il gioco per chi se lo stesse chiedendo richiede all'incirca una trentina di ore per essere completato però essendoci molte scelte multiple il gioco è ampiamente rigiocabile dovremmo andare in città, volevo farvi vedere qualche combattimento se ce la faccio a farlo poi mi direte voi se volete vedere un proseguo, io cerco in questi casi in cui porto giochi sconosciuti ai più conosciuti ai più, scusatemi, di portare qualcosa di un pochino diverso quindi non iniziare la cieca o comunque non iniziare in modo classico infatti io ho preferito un andazzo diciamo di spiegazione, spero abbiate gradito quello lì è da solo, vedete che io adesso è girato verso di me, non mi vede il pallino che c'è sopra poi diventa un punto esclamativo se lui ci nota io adesso aspetto che se ne vada e poi provo a andargli alle spalle non lo colpisco a mano ma gli sparo adesso intanto in alto a sinistra vedete che la fame sta scendendo ma molto lentamente quindi tra l'altro ho appena detto ma non è comparso se non bevi la disattrattazione peggiorerà in quattro fasi ridurrà la tua destrezza, la tua percezione, l'intelligenza e infine ti porterà alla morte sì ma siamo, abbiamo perso un po' ma neanche tanto ok se ne sta andando, noi siamo in furtivo adesso no? cerchiamo di farlo fuori senza farci vedere rallentando magari il tempo una volta che lui ci ha beccati vedetelo lì la pistola è carica, ha sparato, vedete io adesso rallento il tempo sparo ancora, sparo ancora e poi c'è quello di là che ricarico il tizio lì è lì dietro basta prestare un po' di attenzione non è un dark souls a difficoltà elevata però bisogna un attimino allora, proseguiamo cioè dovremmo luttare i corpi però il problema, la cosa che non mi fa impazzire questa cosa dell'erba che quando si va all'interno poi in certi casi se ci si distrae non si capisce più di essere dentro non so ancora se ci siano punti di danno critico in caso di attacco furtivo lo capirò nel corso dell'avventura intanto io me ne sto andando in città ormai siamo arrivati vedo se ho deciso di giocarlo a questa difficoltà per godermelo un po' di più perché quello che io ho letto un sito diceva vi consigliamo di iniziarlo subito così perché? perché se l'iniziate normale nel giro di pochissimo tempo avete già in mano delle armi potentissime e non essendo questo un borderlands dove ci sono milioni di armi se non miliardi bisogna sudarsene un po' le armi quindi godersene anche quando le si possiede e quindi ho deciso di questi cosi qui mi ricordano Endless Legend non so quanti di voi comunque lo sto giocando praticamente a ultra con i fotogrammi a 60 non credo stia andando a 60 però il mio pc regge ancora splendidamente anche il dettaglio ultra anche se ogni tanto magari qualche rallentamento c'è sicuramente abbassando ad alto andrebbe bene ma allora siamo al cimitero io non so se posso sparare la gente ma questo è Silas che ci diceva di incontrare il cimitero e vediamo se Edgewater buongiorno non ti conviene andare a fare una scampionata su quelle colline al territorio dei perdoni la mia capsula si è schiantata hai preso una botta in testa? non è sicuro là fuori ti consiglio di dirigerti in città approfittare di altri mure e dei prezzi molto molto bassi via lunga acqua ok noi siamo Alex ma in realtà siamo il capitano Alex io sono Indy si stringere la mano ma ho appena finito di trascinare i cadavveri fidati meglio di così mi chiamo Silas apprendista inumatore della città lunga acqua facciamo tutti parte della famiglia soluzioni di spaziare qui con chi devo parlare per avere un regolatore di energia? non con l'apprendista inumatore questo è certo per le questioni lavorative devi passare dall'ufficio di Reed Thompson si trova nella torre sopra il conservificio ti basta andare in città a seguire la strada parliamoci chiaro è evidente che non sei un operario di che ti occupi sei un trafficante faccio quello che mi fa se vado ad agire con discrezione potresti fare dei bei soldi a patto che tu sei in grado di non cacciarti nei guai gli affitti significano soldi ok va bene vuoi che io risquadra ciò che ti aspetta? beh perché no 4 operari non ho ancora saldato il loro debito ok vacci giù pesante con lui a Martin ok dove posso trovare queste persone? con far barbiere uno è al conservificio non lo vedo qualche giorno vicino al conservificio anche lui li troverai tutti a parte Ludwig lui è aperto a fermare l'atterraggio perché a Barnati è un caso speciale è così e basta non ti va di parla non mi va di parla ok dai andiamo entriamo a Edgewater ma in realtà Edgewater è tutt'altro che lungacqua però va bene allora vediamo un po' abbiamo il diario con le ok vediamo possiamo fare l'incarico o uno o l'altro io prima vado a parlare al tizio poi magari pensiamo anche agli affitti voglio dare un'occhiata qua se si può aprire un po' di cose come leggevo potete rubare ma in realtà qua si può rubare e abbiamo anche un limite di peso poi dicevano che potete rivendere a loro stessi le cose rubate poi non lo so se verrà sistemato o è così comunque lungacqua Emerald Vale siamo su questo pianeta poi ci sposteremo anche su su altri pianeti cosa è successo all'inizio imparteriamo in criostasi su una nave partita dalla terra insomma poi non ve la faccio tanto lunga perché il robottino qui è fallout c'è poco da fare questo è un banco da lavoro un altro di quelli che abbiamo visto ancora anche prima sulla nave vedete non si può salvare quindi dobbiamo giocarcela allora questo soltuna canneri canneri canne la la latta del del conserve quindi direi che il conservificio è questo qui interessante abbiamo un terminale ah possiamo anche andare a fare hacking registri avviso però beh qua non voglio sì perché ovviamente le abilità sono tante e ve le voglio far vedere no qua mannaggia i consumabili vabbè questo è l'inventario dove possiamo andare a prendere le armi e possiamo tenerne fino a 4 quindi io adesso prendo vedete il danno 36 io prendo dissanguamento 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 giusto e modificarle l'armatura sì poi in realtà non so perché mi sta dando ancora i tutorial comunque va bene e altra cosa volevo andare a farvi vedere le abilità le abilità appunto sono tante le abbiamo viste anche prima comunque tutto quello che è scassinamento quello che volevo fare che ho potenziato appunto la furtività non so perché la sto perdendo adesso probabilmente ho perso perché ho sete la medicina possiamo curare agire modificare armi mentire persuadere intimidire bloccare schivata armi pesanti armi lunghe pistole armi una mano armi due mani a mischia va bene andiamo è un misto qui tra border non border scusate bioshock e fallout eccolo qua ma se io sparo ecco ok ok abbiamo provato la cazzata vedete adesso vi va a ricaricare e vediamo a questo punto quanto è cattiva la modalità supernova vediamo si direi che è stato abbastanza buono perché ci ha salvato la partita qui quindi ci è andato anche discretamente bene ovviamente questo se è un gioco che volete giocarvi per godervelo potete farla questa modalità se lo giocate con la fretta di finirlo perché poi state mentre state iniziando questo gioco ne state già pensando state già pensando un altro gioco in uscita lasciate perdere giocatelo facile e infine per il fatto che fosse comunque facile come un borderlands borderlands non è semplice però se è troppo semplice non ha neanche senso potenziare l'abilità ok allora qua non posso sparare ma guarda abbiamo ospiti ok tu sei rid mi hanno detto che devi parlare con te mi è stato a nuovo posto non indosso un uniforme io non lavoro per la soluzione spaziale allora pare proprio che il mio entusiasmo mi aveva un internete distratto la mia nave ha bisogno di riparazioni sto cercando un regolatore di energia l'unico regolatore che abbiamo è collegato al trasformatore della città non credo che il signor Thompson sia incline ad autorizzare nello smantellamento temo di no non posso consegnarti il nostro regolatore tuttavia posso dirti di trovarne un altro posso dirti esattamente come recuperarlo senza brustolirti sentiamo c'è un regolatore nel vecchio laboratorio di botanica è praticamente abbandonato quindi tutta quella energia è sprecata raggiungi l'impianto geotermico dirotto all'elettricità del laboratorio alla nostra città una volta staccata la corrente potrei prenderti il regolatore praticamente abbandonato non sapevo come dirtelo ufficialmente i laboratori di botanica sono disattivati sono persone che ci vivono e non credo saranno entusiastri no non ne saranno felice ma come un genitore che pronuncia il figlio scappestato lo farà per il loro bene le persone che vivono nei laboratori sono dei disattori ah ecco qua c'è il ritorno che avete voi dimmi cosa devo fare ah li voglio lasciare senza corrente in modo che siano costretti a tornare in città beh potremmo anche pensarci come faccio a riconoscere Adelaide è la più vecchia di Nittrosa e benevola vediamo poi possiamo decidere come risolverla e se Adelaide non volesse va bene va bene dai saltiamo questo d'accordo vedrò di fare il possibile mio padre parlava spesso dell'impianto mi ha insegnato tutto ciò che sapeva potrei tornare io sono piuttosto stai stiosa non hai bisogno di un codice d'accesso come se mi fiducia ti darò il mio e se per te va bene ti farò accompagnare vabbè ci aiuta lei non mi dispiacerebbe avere un altro po' di compagnia però faccio più danno da solo vediamo subito dai mettiamoci al lavoro allora i compagni sono al mio franco nei combattimenti le loro abilità migliorano le mie abilità aumentano la capacità di carico puoi sbloccare speciali doti di combattimento utilizzando l'abilità di ispirazione va bene poi non so se muore che cosa succeda comunque va bene andiamo voglio andare a vedere buon dì ok ok non vuoi parlare qui in ascensore va bene usciamo parliamo vediamo se posso mandarti via e soprattutto cosa succede se ti uccido no questo magari non lo tentiamo possiamo parlare sì anzi no io voglio fare una cosa voglio andare nel diario ah tra l'altro no la mappa non ho altro qua mi fa vedere la città poi qua c'è la regione e poi ci saranno altri pianeti altre zone in cui andare no volevo fare il servizio funebre e vedere un attimo come funziona ok ok è molto semplificato questo l'avevo già visto praticamente mi indica già dove andare quindi è un punto di vantaggio se non si vuole vagare voi andatene come me solo che al suo punto di vista ok è solo una parte della storia vabbè qua c'è tutta una storia a me quello che ha detto ok e nonostante è solo che non sempre riesce a capire le ragioni altrui perché mi sta parlando di quel signore lì che ok ci sta dicendo che i disertori non sono cattivi e io gli dico non posso benibesimare i cittadini a città verrà sicuramente i suoi problemi ok non avranno luce non potranno cucinare saranno totalmente in maniera i credoni penso che dovresti pagare con i vicari della città si chiama Max ok abbiamo già una scelta multiple ci penserò su va bene ci pensiamo su intanto andiamo a riscattare gli affitti vedete qua abbiamo una missione che è ovviamente la storia principale che già comunque ci fa fare delle cose abbastanza grosse perché ci fa decidere se lasciare una città completamente senza allora questo è Abernanti è quello con cui dovremmo andarci abbastanza pesanti ti ha mandato il signor Thompson che tornerà dietro al mio posto domani no ha disertato il lavoro pure lui no non siamo per lui non sono qui da parte del signor Thompson un giro turistico quella alla porta no sono qui per riscontrare i tuoi contributi funerari e vuole che io paghi lo sa sa cosa che sto per morire non mi resta molto tempo la mia data di scadenza si avvicina rapidamente molto presto farò il mio ingresso in un grande conservificio celeste le restano ancora un paio di decenni stia la larga signorina ha una malattia parlano del conservificio celeste quel cacchio c'è sotto questa città mi si sta spezzando il cuore pagami così posso andarmene non voglio mettermi nei guai ma se hai risposto a fare il tuo servizio indipendente è un po' di aiutami a fare per comodo che cosa vuoi? cosa vuoi che faccio? c'è una riserva dentro un cellino nascosta nel vecchio centro comunitario roba forte dovrei fare l'eruzione e rubare il farmaco e portarmelo lo farò ti faccio questo favore va bene dov'è questo centro comunitario? voglio darvi subito un'occhiata perché mi sto prendendo piuttosto bene il terribile vecchio dov'è? vediamo un po' il centro comunitario è di là ok dobbiamo fare l'eruzione sicuramente ci saranno dei perdoni così ci si mette in furtivo appunto ve l'ho già fatto vedere quindi però voglio chiarire una cosa io entro in casa sua e vedete adesso quello che avevano detto è che posso fregargli la roba adesso voglio provare lui vabbè ufficialmente non mi ha visto però ti prendo l'altra roba ok no effettivamente è vero è vero possiamo prendergli tutto e non dice niente vabbè niente altra casa si potrà parire sì buongiorno è un commissario Reyes ti frego la roba eh no eh no è balle ci vedono sì che ci vedono persuasione 10 no allora vediamo un po' intimitazione 10 ok ok boh non lo so io ho fregato qualcosa voglio appunto volevo appunto confutare quello che mi hanno detto perché ho visto dei video in cui dicevano potete prendere quello che volete non vi dicono niente è brutto è brutto è brutto questa cosa e io ho rubato al commissario e mi hanno sgamato subito e ho dovuto voltarmela via così voglio fare un'altra prova giusto per tanto comunque non credo mi salverà la partita voglio provare rubare della roba di fronte a qualcuno ancora buongiorno salve chi è lei posso si può no non si può prendere niente qua prima di chiudere il video voglio fare questa prova appunto per rendere il video ancora più atipico di quello che volevo qui si può no speravo si apressero tutte le porte qua allora vediamo un po' il mio senso dell'orientamento no non si apre neanche qua bello però mi piace il giochino mi piace mi ha fatto davvero mi ha fatto davvero bene ah questo è un barbiere scusami barbiere se io ti frego la roba tipo la collana e ma beccato che cacchio dite me ne stavo andando ho usato l'abilità di persuasione voglio vedere adesso se cambia sta salendo qualcosa di negativo si le soluzioni spaziali si stanno un po' incacchiando comunque niente ho fregato e mi hanno beccato adesso io non posso salvare dovrei poter fare il viaggio rapido e tornare alla nave vedete anche questi intermezzi di caricamento un po' la fallout e niente niente balle allora perché ho rubato due volte e mi hanno visto quello là non mi ha visto ma poteva essere anche il fatto che o non era girato verso di me o comunque era intimidito comunque adesso apriamo l'inventario andiamo sul cibo si si consumabile qui e ci mangiamo dei filetti di saltonno allora F usa mangiato adesso vediamo è salita ok posso bere acqua quella non è acqua di sicuro compresse di acqua prendo una compressa di acqua F usa mi è passata anche la sete e ora vado a dormire no mi sono curato per sbaglio vabbè dormi per 8 ore ci sarà il ciclo giorno e notte insomma e si si dormirà si salverà la partita io adesso dormire 6 ore è il minimo consentito io dormo 6 ore e passiamo la partita questo ragazzi era The Outer Worlds vediamo fuori com'è il tempo oggi bello fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto anche magari se vi va se avete apprezzato il tipo di video un pochino diverso dei classici alla prossima ragazzi e ciao ciao un pochino di video Grazie.